Trent'anni è una storia della città con un giovane presidente, si è raccontato quello che è successo, ecco rapidamente, che è successo e poi soprattutto quello che sarà il futuro per l'Avis a Lucera? Bene, quello che è successo è che una realtà come Lucera ha tirato fuori un gruppo, trent'anni fa, un gruppo di volenterosi che si sono impegnati in questo progetto, che è l'Avis. L'Avis non è nient'altro che un gruppo di volontari che invitano a donare sangue per chi ne ha bisogno. Questo gruppo di persone, prima sono una ventina di persone, 25 persone, sono diventate oggi più di 1600 persone negli anni. Oggi l'Avis Lucera vanta circa 500 donatori attivi che ogni anno hanno una media di donazioni intorno all'1,5-2 donazioni. Quindi l'obiettivo dell'Avis Lucera è aumentare queste donazioni perché comunque la gente che ha bisogno è in costante attesa del sangue. Noi quest'anno inizieremo oggi perché l'8 febbraio è stato il compleanno dell'Avis, noi quest'anno andremo avanti con le nostre manifestazioni per promuovere e per festeggiare questo trentennale. A breve inizieremo il corso con le scuole, che noi ormai siamo arrivati alla tredicesima edizione con le scuole superiori perché è una nostra idea precisa che è quella che la donazione del sangue deve partire da giovani, da piccoli. Quindi partire dalle superiori anche nelle scuole dell'infanzia. Il dono è un seme che deve essere piantato fin da piccoli per poter produrre frutto da grandi. Andremo avanti per tutto l'anno anche con le nostre manifestazioni sportive e culturali fino ad arrivare a fine anno con la grande festa. Noi speriamo che i nostri donatori ci siano vicini e speriamo soprattutto di poter aumentare il numero di donatori e di donazioni. Per chi volesse donare, per chi si vuole avvicinare, cosa deve fare e dove si deve rivolgere? Per quanto riguarda diventare donatore si può rivolgere alla nostra sede che cerchiamo di tenere aperta tutti i pomeriggi. Le donazioni si possono effettuare il lunedì e il giovedì mattina dalle ore 8.30 alle 10.30 presso l'ospedale di Lucera.